Nuovi massimi in Italia. Sì ragazzi, sembra strano sentir dire questo del nostro mercato azionario, ma i numeri parlano chiaro. Proprio in questi giorni il principale indice del nostro paese, e sto parlando del Fuzzemib, ha superato quota 30.000. Alcune azioni italiane, ad esempio intesa, sono al più 27% da inizio anno, rendimenti addirittura superiori all'S&P 500, e non accade decisamente tutti gli anni nel nostro paese. Ciao ragazzi, oggi torniamo a parlare del nostro paese, ed è doveroso visto che questi massimi non venivano toccati dal 2008. Capiremo le cause di questi rialzi e parleremo del nostro debito, ma faremo anche alcuni ragionamenti su quello che potrebbe succedere il prossimo anno. Quindi seguite il video fino alla fine e mettete un bel like, iscrivetevi al canale e siamo pronti per cominciare. Abbiamo capito ormai che ciò che sta facendo muovere i mercati negli ultimi mesi sono le aspettative in merito alle mosse delle banche centrali. E proprio qualche giorno fa si è espressa Isabel Schnabel, che per chi non la conoscesse è uno dei membri più influenti della Banca Centrale Europea, facente parte del Comitato Esecutivo. Le sue parole sono state, ritengo abbastanza improbabile, un ulteriore rialzo di tassi a causa del ridimensionamento dell'inflazione. Ma come mai? Beh ragazzi, guardate bene questo grafico. Rappresenta l'indice dei prezzi al consumo dell'Eurozona, e siamo molto vicini al cosiddetto livello fisiologico del 2%. Quindi sia per questo dato che per altri il mercato ha interpretato in maniera estremamente positiva le parole della Schnabel, vedendo un cambio di rotta a breve per quanto riguarda la politica monetaria. Certo, bisogna sempre specificare che i prezzi sono aumentati poco, appunto di circa il 2%, anche perché erano già cresciuti moltissimo nello stesso periodo dell'anno scorso. Ricordiamoci sempre che l'Italia va inserita nel contesto europeo, ed ogni mossa fatta dalla Banca Centrale, europea, ha un fortissimo impatto sia sul nostro paese che su tutti gli altri membri. Segnatevi infatti queste date, 13 e 14 dicembre, giorni in cui ci saranno le riunioni della Fed e della BCE, e dove probabilmente riusciremo ad avere qualche informazione in più, specialmente per il prossimo anno. Gli investitori sono sempre più convinti di un taglio dei tassi di interesse già a partire da marzo 2024, e su una riduzione complessiva di circa 150 punti di base entro la fine del prossimo anno. La prova di questo è il mercato obbligazionario, dove i rendimenti dei titoli di Stato proseguono la loro discesa. In questo grafico vediamo proprio lo spread BTP Bund che ha toccato i 173 punti, e il rendimento del decennale italiano che è sceso al di sotto dei 4 punti percentuali. Ma andiamo a vedere alcuni dati macroeconomici del nostro paese per capire se effettivamente questo rialzo sia giustificato. Partiamo subito dal prodotto interno lordo. Secondo i dati Istat dovrebbe crescere dello 0,7% nel 2023 e della stessa percentuale anche nel 2024. Certo, siamo ben lontani rispetto al 2022, in cui il PIL ha registrato un più 3,7%. Se ci pensate ci sono due elementi che condizionano pesantemente la crescita o il calo di questo dato. La domanda interna e la domanda estera. In Italia la forza preponderante nell'ultimo periodo è stata sicuramente la prima. La domanda interna, che è cresciuta dello 0,7% nel 2023 rispetto all'anno precedente. Mentre per quanto riguarda la domanda estera è stata di poco negativa nel 2023 con un meno 0,1%. Ma diamo un'occhiata anche alle performance delle migliori aziende del Fuzzemib e partiamo da questo grafico che mostra i settori migliori di quest'anno. Tra i settori maggiormente trainanti abbiamo quello bancario, che dall'aumento dei tassi di interesse ne ha beneficiato moltissimo. Se ci pensate bene ragazzi, per le banche avere tassi elevati è vantaggioso, perché la parte principale dei loro introiti deriva da finanziamenti e mutui. Quindi tassi elevati significano molto semplicemente un maggiore introito di interessi pagati dai clienti. Anche il settore del consumer discretionary è salito molto, e questo grazie all'inflazione elevata che ha fatto salire i prezzi di questi beni. Ma vediamo quali sono state le migliori aziende del settore bancario. Tra queste sicuramente troviamo colossi come Intesa San Paolo e Unicredit, che da inizio anno stanno realizzando delle performance a doppia cifra. La prima è vicina al più 30%, mentre la seconda da inizio anno è al più 88. Di certo un periodo positivo per le banche italiane. Anche il settore del lusso ha trainato la crescita. Guardate il grafico di Ferrari. Più 66% da inizio anno, ed il motivo ragazzi è semplice. Il settore non risente dell'aumento generalizzato dei prezzi. Anzi, con una domanda non elastica e quindi un impatto dell'aumento dei prezzi che è praticamente nullo, il brand si conferma fra i migliori del nostro indice. Grazie anche agli ottimi margini può continuare ad investire per crescere ed espandersi nei prossimi anni. Vediamo anche con questo grafico le valutazioni di mercato. Guardando i multipli, ad oggi le azioni italiane scambiano mediamente a nove volte gli utili. È un fardello che ci portiamo dietro da diverso tempo. Ad esempio l'America scambia oltre 20 volte gli utili. E questo ragazzi per diversi motivi. Abbiamo meno aziende tecnologiche che piacciono di più agli investitori. Abbiamo un debito che è molto elevato e non siamo famosi di certo per la stabilità e la continuità politica. Ma di cosa dobbiamo preoccuparci? Tra indicatori che pesano maggiormente sulla nostra economia abbiamo sempre il solito rapporto debito-pil, che rimane molto elevato, intorno al 140%, con una media UE al di sotto dei 100 punti percentuali. La vera domanda è, stiamo facendo davvero qualcosa per ridurre questa cifra. Beh, la risposta è non tanto e non lo dico io ma lo dice il NADEF, ovvero la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che costituisce la base per la manovra di bilancio del 2024. Il governo afferma in questo documento che andrà a peggiorare sia nel 2023 che nel 2024 il disavanzo. Nella legge finanziaria dell'anno scorso il governo aveva previsto di mantenere inalterata per il triennio successivo la spesa nominale per il personale e per l'acquisto di beni e servizi, previsione che sia rivelata insostenibile data la ripresa dell'inflazione. Il governo ha deciso quindi di investire pesantemente nel 2023 sulla riduzione del cuno fiscale, sui redditi da lavoro fino ai 35.000 euro. Forse l'intervento potrebbe essere troppo oneroso per le casse dello Stato, ma un dietrofronto potrebbe creare delle ripercussioni politiche da non sottovalutare. I numeri presentati dal Nadef non sono particolarmente positivi. La riduzione del debito c'è, è vero, ma estremamente minuscola. Guardate. Questa è la tabella che contiene gli indicatori programmatici della finanza pubblica e si nota come il debito cali molto lentamente dal 140,2 al 140,1 e negli anni successivi sempre di valori non particolarmente elevati. Giusto per chiarire, prima abbiamo detto che il debito pubblico aumenterà e qua vediamo una riduzione. Abbiamo sbagliato? Beh, no. Semplicemente nella tabella vedete il rapporto in proporzione al PIL. Abbiamo detto che questo crescerà, seppur lentamente. Dato che siamo anche in periodo, parliamo di un concetto che si chiama effetto palla di neve. Ne avete mai sentito parlare? Si verifica quando l'onere degli interessi sul debito pubblico è superiore al tasso di crescita tendenziale dell'economia. In questo caso è necessario che il bilancio primario sia inattivo per evitare che il debito pubblico aumenti nel tempo. In questo momento godiamo di un effetto palla di neve positivo, dato dalla differenza fra il costo medio del debito e la crescita nominale del PIL. Nei prossimi anni, man mano che il debito verrà rinnovato a tassi di interesse più elevati, questo effetto tenderà a scomparire completamente. Ma che cosa sto cercando di dirvi, ragazzi? Se non riusciremo a diminuire il debito ora che abbiamo l'effetto a nostro favore, sarà molto più difficile farlo nei prossimi anni. Parliamo anche di occupazione. L'Istat ci dice che il dato sulla disoccupazione è del 7,8%, mentre per quanto riguarda quella giovanile siamo intorno al 24,7%, dato da non sottovalutare visto che la media UE è intorno al 14%. Noi ragazzi saremo sempre qui per aggiornarvi su tutto quello che succede. Voi però fateci sapere con un commento che cosa ne pensate. Secondo voi riuscirà l'Italia a mantenere questo trend positivo? Oppure torneremo a vedere il grafico del nostro indice ancora in rosso. Per oggi è tutto e noi ci vediamo per un prossimo video sempre sul canale di Ingegneri in Borsa. Ciao ragazzi!